Ai primi di dicembre la finanziaria regionale da 7,7 miliardi di euro approderà in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. L'obiettivo dell'Aggiunta Pigliaro della maggioranza di centro-sinistra è quello di evitare l'esercizio provvisorio. Dai sindacati è arrivata la richiesta di una maggiore attenzione ai temi del lavoro, anche in considerazione del fatto che la ripresa non ha inciso in maniera efficace sulla occupazione. Stiamo lavorando a un pacchetto strutturato di politiche per il lavoro da inserire in finanziaria prima dell'ingresso in aula. ha sottolineato in una nota Raffaele Pace, assessore regionale al bilancio. Come abbiamo detto sin dall'inizio, anche negli incontri con le parti sociali, abbiamo deciso di definire gli interventi su questa materia durante il confronto in Consiglio, in modo da avere tutti gli elementi utili per arrivare al miglior risultato possibile, dando risposte concrete alle esigenze che di volta in volta sono emerse durante diversi incontri. Pace sottolinea come ci sia la massima disponibilità al confronto e all'accoglimento di proposte e suggerimenti, e in questa ottica si è parlato di finanziaria aperta. Proprio in queste ore, continua Pace, stiamo definendo un piano per il lavoro utilizzando, oltre che a quelle già stanziate, risorse aggiuntive da mettere a disposizione. Nel pacchetto che la Giunta sta mettendo a punto, continua Pace, insieme al Presidente della Commissione Bilancio Sabattini, e con l'apporto di tutti i gruppi consigliari, sono previsti diversi interventi destinati sia ai giovani disoccupati che a quelli di lungo corso, con minore qualificazione professionale e interventi di politiche attive che diano a tutti i sardi che ne abbiano bisogno la possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro. A questi interventi, spiega Pace, si affiancheranno quelli sul race, il reddito di inclusione sociale da 30 milioni, per dare risposte alle fasce più deboli e marginali della popolazione.